salve salve ma che cacchio che schifo questo non lasciamo vabbè amici come avrete visto l'entro oggi video particolare nel quale mai fatto incredibile ringraziamo la signorina Laura alla mia destra a vostra sinistra nel quale spacchetteremo e mangeremo anche sperando di non sboccare le robe dal giappone in caso se lo volete mangiare anche voi link in descrizione di amazon la marchettata è una marchettata siamo a vostro ci siamo presi una roba a testa io ho preso tipo il Doraemon bianco pasco tu hai preso uva secca che schifo e lei Doraemon ci siamo copiati però sono diversi mi hanno suggerito che sono diversi quindi spacchettiamo vado io ci sono il più tragico aaaaaaah ok vieni aaaaaaah che aspetto no no che schifo voglio mangiarlo quello questo qua la di formaggio che schifo a me piace è stra buono dammi dai ma scusami c'è è stra buono è tipo formaggio è dolce è tipo formaggio stradolce nel dubbio quello la è uguale però secondo me è tipo paprika il cestino no non abbiamo pensato al cestino dannazione no con schifo all'acqua partiamo malissimo dai chiaramente sono chiaramente felici nooo ma non potevamo giocare ad among us erano tutti più felici no non dire niente forse non è uva nooo io ho letto soltanto che senza semi supponevo fosse uva ma no è prugna forse neanche non capisco che frutto sia ma è molto salato no abbiamo un cestino scherzo però intanto la lacrima acqua sono di mer e niente questa è bellissima ci puoi anche giocare non ci giocheremo immagina la storiella questa pascola ha preso di dietro a sportello si una gallina ma dai noi dobbiamo mangiare la cosa che esce dal culetto di un è da aprire c'è dentro il pappetto che stupidi sexy giapponesi è più articolato del previsto nel frattempo no che schifo sono buone sono buone sono buone sono buone due e non so più richiuderla allora non so se lo vedi e niente che schifo hai fatto la cacca in mano beh a censura censura sono palline piccole ma perchè è caduto tutto in terra sono buone sono buone sono ben cinque o sei challenge trozzarsi in live ma non so ma ce n'è un'altra che non ho tirato fuori da parte acqua ma ora io vi dico cos'è questo che si ricorda 201 che esce la nuova serie c'era un episodio in cui quella con gli occhiali faceva anche tipo la mezza scienziata e l'altra amica erano andate a prendere racconta racconta eeeh cosi come funziona la mamma che senso vabbè comunque allora io ho preso le ciunga queste sono caramelle lo sapevi lei la carne essiccata che non voglio toccare ah che schifo lo sbocco yogurt ah stai già mangiando di cosa sa la carne essiccata laura cristian non commentarlo no io non voglio amici nooo non so se sia peggio il sapore o la consistenza ci siamo cercate di respirare non lo riesco a strappare come ne forno avete presente quando mangiate i cani cioè no beh no c'è di limone io non lo tocco beh che schifo ciunga questo è stra buono questo è stra buono ma non sa di niente cazzata si lo voglio fare per la scienza non con la tua parte e massaggia si lo so l'avevo notato ma non l'ho detto no hai mangiato tutto questo è stra buono questo è stra buono ma devi caduta ah tra l'altro ci sono anche mini cosi da fare a casa poi quando hai finito il tutto le butti via no le hai mangiate però non fa una piega nel dubbio io sciego questi io mamma orso ma c'è un vecchietto che picchia una nonna guarda fa vedere il vecchietto che picchia una nonna vecchietto che picchia nonna ma che si fa più? youtube non è vecchio quello che picchia biscotti al ciocco chip vaniglia e scioccolato quindi signori giapponesi non indiani razzista cancelliamo anche questo la terremo non so di cosa sanno sono buoni ma perché cade tutto in terra oh la metà della scatola è in terra raga è pane pane bruttettià bravo è pane bruttettià ma sai che video è quello del tipo col martello che fa tipo oh apriamo vedete che cade tutto in terra incredibile no questi sono stra buoni ci hanno pure il nome personalizzato koala è un gatto nel dubbio acqua e niente voglio farmi esplodere la bocca non è già feo voglio vederlo c'è il bacchettino qua e ciò che ciò qua fammi vedere sono pasticche sono pasticche un pasticche eh 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 Laura devi giocare in mezzo alla storia vai allora lì chiaramente e poi eh comunque versi vogliamo scoprire cos'è con google traduttore no la mia bocca eh niente figo buoni questi sono buoni ora ma quanto è costato l'ha preso lei sto semplicemente stoccando il pacco quanto l'hai pagato il pacco? 35 euro 35 euro c'è un botto di roba non so se ora riesco a farvele vedere ma c'è un botto di roba e tra l'altro è vero è vero se vi prendete il pacco chi lo vuole finire? io si e Laura dai mangiate come sei Laura? vabbè se vi prendete il pacco vi danno anche il codice del 10% di sconto per il pacco dopo mi hai stoccato Laura dannazione quelli la ho fatto una cazzata Mayday Mayday con crema con crema adesso non ci ho capito un cazzo allora c'è pure una faccina di un bambino che viene da cernobyl che ti dice da dove aprire saluto a quelli da cernobyl che seguono sempre i miei video ma dai pure deforme viene davvero da cernobyl non lo voglio mangiare sembra quello delle milk ma più al volo? nooo più calda ancora ma è salato al primo tentativo ma do quanto stai masticando patatina e cipolla manca sale ok ok questo non so male ma vedete cosa era buono quello che non mi hai fatto mangiare Doraemon 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 chiaramente versione tarocca di freaky fries non sono né freaky ma non c'è il sale ma noi siamo in toscana all'acqua peperoni e cipolle esatto peperoni e cipolle e carne cos'è quella faccia quella con la faccia sorridente è chiaramente carne le verdure le mangio proviamoli sembrano i micado senza cioccolato sembrano i micado senza cioccolato ma sti cinesi coppiano tutto sono blandi allora non sono le cose peggiori che abbiamo mangiato sono molto blandi come sapore anzi no io scioppo questo oh l'hai preso allora intanto apro il panda uuuuuh hai spiattato il panda carino un biscotto carino allora abbiamo ancora la carne essiccata ma non la mangio è pure buono hai presente le particole hai presente la particola c'entra un cazzo però è buono questo sembra cocco buono buono pure una cosa più tossica no questo fa schifo quello fa vomitare ci siamo preparati aspetta è una testa è andata a mangiarlo facciamo un, due, tre e mettiamo un po' perché c'ho il cartone mio uno, due, tre vai ah è buono è buono non è il mio genere di caramelle però ci sono anche in Italia buono tipo una caramella non è buono è buono allora questa dovrebbe essere pollo abbiamo cercato prima che schifo va bene al mio tre al mio tre tre beh beh ahahah che merda beh via via beh e poi ti unge un botto guarda il cartone che schifo guarda sul cartone che rimane tutto lungo non toccatemi all'acqua e chi prende il bastoncino più corto paga vai è la pelle del pesce beh no va schifo no vabbè beh voglio vomitare dal naso beh no che schifo che schifo calamari grano e soia allora ci mangiamo questa di rapapamera di carne no no sì non mangiamo proprio niente berriamo dopo facciamo la papmerda eh per adesso la carne ma ti stanno dicendo un botto quelle no io no cos'è questo signorinaura è la mini pancake la nonna abusata saluto alle nonna abusate eh i mini pancake sembra no quanto è drogata quella giraffa allora sono mini pancake ma credo sia pane semplice dammi 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 è pane ah ma è crocanosissimo a few moments later sa di cimice sto piangendo no che schifo se ho fatto una poltiglia in bocca beh dai laura bersami stanco sa di cimice sto lacrimando il sapore di questo è ricollegabile all'odore delle cimici ne voglio una è pane no no e io so come pulirmi la bocca se siete allergici a qualcosa non mangiate sta roba perchè è vero ah prima era vaniglia adesso cacao ma perchè mi sembrava diverso si perchè dovete sapere che io ho undici anni cari Winnie the Poop no no fermi l'ha detto ora no no dai che ho pianto prima dai prendila dai fa il bravo all'inizio era buone soprattutto la consistenza versamela tieni sono anche due insieme no giù no non ci penso neanche dammi l'acqua che intanto gli rifillo il bicchiere rifillatemi l'acqua dobbiamo premere il tasto R prendo ricarico allora mi dispiace ho già aperto questo aspetta l'ha già aperto non è vero mangia quella cimice devo mangiare queste due doppia cimice avete presente le cimici proprio le cimici quando puzzano però non puzza non puzza ma all'inizio non c'è sempre dopo covid covid in tasca beh beh sai con cosa potresti lavarti la bocca vedi le caramelle più dure del mondo ho presente che ci sono in giappone le vendono sarebbe interessante ho visto un video di uno che crea un coltello per tagliarle quindi il coltello più duro del mondo che taglia le caramelle più duro del mondo no il coltello non è duro è solo affilato continuiamo assaggeremo questo no si no alla fine alla fine siamo due contro uno siete fortunati che non so aprirlo bene bene abbiamo un'altra si ma questa è dieci volte meglio cioè le cimici sono una merda da merda siiii vostre che me la voglio oddio il cioccolato è un parolona eh c'è proprio un parolone di quelli è marrone non è cioccolato cosa sarà mai chiaramente il farro buona buona eh voglio bello stucchi ah senti l'odore per me è una cicca è una cicca sembra stra buona ma le voglio un pezzo si ne abbiamo due è un altro gusto però fanno vedere la differenza coca cola coca cola come quella di prima uno è giallo ed era limone e adorava buono buona ma di coca e l'altro è rosso giallo coca cola rosso la pepsi vabbè orsetti gommosi non credo ci sia niente incredibile in caso vi faremo sapere orsetti gommosi terzo e credo ultimo l'ultimo Doraemon 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 è un misto tra fabbrica e formaggio no non è buono no non è buono no non è buono non hai buon metterlo dito no 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 non è carne sciicata no cosa è il fratellino di Mila e Shiro saluto Mila e Shiro solo che non è biondo sanni si chiamava quello con la cucina è fatta così vedete più cosa no che schifo no questo eeeh no questo non lo mangio no mi dissocio no, non no so di terzi no che schifo c'hai tá ragione, Laura come? non lo mangerò ah ma è buono che buono giuro assaggio tu no sì, assaggio, assaggio buono buono ma cos'è? com'è buono? non so, dove vi accetta? lo voglio anche io siete dei... no sei una deficiente hai sbagliato dai, mangialo non potevi aspettare l'assaggiarsi? no hai fallito hai sprecato la mia beh 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 allora per sciacquarsi la bocca cosa? buttalo al lavandino io conosco un grosso cazzo sempre all'era sempre all'era che ho assaggiato e sti cazzo battutona dai 3 già partiti? già fanno cagare di loro i kitkats no no chat insultateli vabbè opinione poco popolare i kitkats fanno schifo change my mind buono questo bene no bene e finocchio questo è un finocchio vedetevelo è una merda è pervino peggio del solito kitkat nooo è peggio del solito kitkat e non mi piace il kitkat mangeremo il finocchio non mi piace no non lo mangio no ma non ha no no è diverso da quello di prima non è oleoso guarda è bello secco guarda come si rompe si mangia mangia buono tutto tuo buddha beh non lo mangia mai sembra quello che mangiano i cani per pulirsi i denti buono cioè non che l'abbia mai provato tag mars intorno è buono io dentro no ma il cioccolato intorno buono era più buono il cotto al formaggio meglio questo come si chiamava il prossimo dai mangialo tutto no non lo mangio io dai sfida no buttiamo giù i numeri buttiamo giù i numeri buttiamo giù i numeri 8 9 10 11 devi starne fuori eh che schifo no acqua acqua va bene la coca cola è uguale agli orsetti gommosi è rimasto un orsetto marrone però dal giappone buono questo non so che cos'è è roba qualcosa con l'uva sono enormi si sono evolute è solo una testa questo è buono così l'uva è entrata nella top file assaggiamo almeno il melone vai la più stupida sono le vitamine da bucole dei bambini è vero si sono tipo le pastiglie effervescenti beh allora tu le caramelle te le mangierai durante ah sono smarties questi questi mi ispirano tanto ma sono tutti smarties allora sono cinque o sei pacchettini tutti così però diversi ah questi qui sono tutti colorati eh questi sono colorati sono smarties qui ci sono tutti i colori e qui sono divisi per colore credo no buoni 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 ah no sono caramelle diverse proprio ho sbagliato questi stra buoni sono gli smarties mi sa che abbiamo finito il cibo ce ne sono altri due ma va bene non li facciamo perchè sono un casino da fare la carne è siccata la buttiamo quindi come riassunto della scatola carina mangiate questi sono i più buoni non mangiatele di breve se ci te ne da la vita non mangiatele soprattutto le cimi le cimi ce le voglio tenere però tieni ah no 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 ma io non lo voglio aprire lo apriamo eh 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 cioè non è liquido è una jelly mordi 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 morda morda ti piace il latte con le palline dentro no sono quelle palline lì oh merda che schifo laviamoci la bocca con le patate beh mangi mangi poi c'è qualcosa di buono quindi noi ci andiamo a fare i panini ci andiamo a fare i panini spero che questo schifo di cibo con il salame dello zio uh vi sia piaciuto vi ringrazio per la visita dai che ora faccio uscire il video a che ora? mh alle 3 e ci vediamo alle 2 e mezza con un nuovo video ciao ciao ah niente